cari amici di rado maria buona giornata a tutti sono le 9 6 minuti di giovedì 4 maggio 2023 pace gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce dalla parola di dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità del bene sulla via della pace oggi cari amici dedichiamo la nostra chiacchierata a un editoriale che vorrei fare su quello che il papa ha detto in ungheria citando appunto il romanzo di robert benson il padrone del mondo come già più volte ne ho parlato di questo editoriale perché il papa parlando appunto l'università al corpo accademico gli studenti dell'università ha praticamente fatto riferimento a quello che accade oggi che è appunto il progetto di una società che diciamo fa piazza politica per tutto il passato quindi compreso anche il cristianesimo che si basa su una forma diciamo di religione che è la religione dell'uomo al posto di dio quindi la regione umanitaria che potenzialmente quindi antagonista anzi persecutrice del cristianesimo una società che è completamente costruita in base alla scienza la tecnica e quindi una società disumana e potremmo dire implicitamente il papa fa una critica diciamo così al grande reset che è il progetto mondiale possiamo ben dire della società del futuro una società senza dio una società dell'uomo quindi con tutte le conseguenze che poi ne derivano insomma praticamente il papa già più volte è entrato su questo argomento dicendo che non sarà bello un domani vivere come robot fra i robot bene carissimi questo è lo spunto che prendo da questo evento quindi di cronaca un evento culturale importante quello della visita del papa in ungheria e volevo dire cari amici che il papa ha citato più volte Robert Benson lo dice lui stesso però io devo dire che in questo sono ben ferrato nel senso che come qui vedete due libri qui davanti a me cioè uno è intitolato di esire i giorni dell'anticristo questo libro è uscito nel 2002 perché io nel grande giubilio del 2000 e avevo letto questo romanzo di Robert Benson l'avevo commentato in radio poi avevo letto anche i racconti il racconto sull'anticristo di Soloviov e anche questo l'ho commentato in radio poi da queste trasmissioni è venuto fuori un libro che lo vedete qui davanti si chiama dies ire i giorni dell'anticristo dove appunto sono raccolte queste trasmissioni quindi io già allora avevo una passione per queste tematiche e devo dire che anche i dies ire tra l'altro è stato tradotto per me è stata una grande diciamo così sorpresa è stato tradotto negli Stati Uniti per molti anni è stato presente nelle librerie insomma e questo per dire l'interesse che ha suscitato poi nel 2007 invece ho fatto proprio uno studio sistematico dal punto di vista biblico dal punto di vista dell'incenamento della Chiesa e di tutte le varie profezie sulla tematica dell'anticristo è venuto fuori questo libro le profezie dell'anticristo che vedete qui ed è dunque prendendo uno di questi capitoli di questo libro profezie sull'anticristo quello dedicato a Robert Benson che vorrei dedicare a questo editoriale perché è chiaro che il Papa ha citato questo romanzo e quello che lui ha qualificato profetico cioè in un certo senso profetico ha detto è chiaro che credo che dobbiamo allora approfondire anche perché questo libro profezie sull'anticristo l'ho mai letto in radio perché non ho mai avuto tempo di farlo ma però a voci tante volte vi ho spiegato queste tematiche però adesso è il momento giusto per conoscere meglio Benson perché praticamente Benson è diciamo così un anglicano che poi si è convertito in cristianesimo e diventato sacerdote è una persona per la quale credo che si pensi addirittura di una causa di beatificazione veramente è stato ispirato da Dio in questo romanzo perché ci ha descritto non soltanto il futuro quello che accade oggi cioè l'attacco al cristianesimo il processo al cristianesimo la religione umanitaria ma ci ha descritto soprattutto la crisi della fede nella chiesa e la risposta che la chiesa deve dare a questo tentativo di eliminare la fede e questo è quello che si dice meglio più importante però vediamo le parole che ha detto il Papa innanzitutto a Garemici e a Budapest ha detto in un romanzo che ho più volte citato il Parlamento del Mondo si osserva che complessità meccanica non è sinonimo di vera grandezza e che nell'estereorità più fastosa si nasconde più sottile l'insidia sulle parole del Papa a Verona nel 2014 quando ha citato Robert Benson in questo libro cioè il Parlamento del Mondo in un certo senso profetico scritto più di un secolo fa viene descritto un futuro dominato dalla tecnica e nel quale tutto il nome del progresso viene uniformato ovunque si predica un nuovo umanitarismo che annula le differenze azzerando le vite dei popoli e abolendo le religioni cioè qui ovviamente questa affermazione andrebbe approfondita Papa ovviamente era di passaggio su questo argomento perché stava parlando del mondo robotizzato ma è chiaro che il mondo robotizzato è esattamente il mondo senza Dio di cui parla la Madonna insomma quindi abolendo le differenze tutte ideologie opposte convergono in una omologazione cioè praticamente omologazione significa che tutti devono pensare al medesimo modo avere la medesima prospettiva avere la medesima concessione della vita eccetera eccetera quindi una colonizzazione ideologica della gente questo è il dramma dice il Papa la colonizzazione ideologica l'uomo a contatto con le macchine si appiattisce sempre di più mentre il vivere comune diventa triste e rarefatto in quel mondo progredito ma cupo descritto da Benson dove tutti sembrano insensibili e anestetizzati pare ovvio scartare i malati e applicare l'eutanasia così come abolire le lingue e le culture nazionali per raggiungere la pace universale in realtà si trasforma in una persecuzione fondata sulla imposizione del consenso quindi qui un altro aspetto nel mondo senza Dio c'è la eliminazione della libertà tanto da far affermare a un protagonista che il mondo sembra in balia ad una vitalità perversa che corrompe e confonde ogni cosa questo dunque era il passaggio che il Papa ha fatto il romanzo di Benson ma il romanzo di Benson ovviamente è soprattutto un romanzo religioso a mio parere perché il tema è proprio quello dell'anticristo infatti il titolo stesso il padrone del mondo lo dice molto chiaro cioè l'umanità esprime quello che è il suo signore, il suo padrone, il suo messia il suo Dio che è appunto questo personaggio di 33 anni che si chiama Felsenburg e che è il padrone del mondo e quindi la prima cosa da eliminare è la Chiesa Cattolica che è l'unica opposizione alla dittatura ideologica dell'anticristo quindi quello che emerge che io comunque ho fatto emergere da questo romanzo soprattutto la grande battaglia della Chiesa per conservare la fede questa è un'attualità sorprendente ed è preeminente perché come ci ha detto la Madonna chiamandoci alla resistenza nella fede ci ha detto che per il mondo nuovo senza Dio cioè il mondo dell'anticristo non c'è né futuro né salvezza eterna questo deve essere chiaro però questo mondo viene proposto è proposto è stato proposto in questi anni per quello che io poi ho scritto in questi libri come l'alternativa al cristianesimo e praticamente ha seduto l'80% delle proporzioni dell'occidente possiamo dire è comunque diventato un progetto mondiale su cui c'è il consenso di tutti ormai cioè in pratica di fatti a Davos dove viene coltivato questo progetto Davos è questo villaggio svizzero di milleggiatura dove ogni anno a marzo arrivano tutti i manager tutti i politici tutti i grandi iconi i finanziatori di questi progetti che concordemente progettano questo mondo che viene chiamato appunto il mondo robotizzato dove però comunque la cosa più evidente è la distruzione dell'uomo come immagine di Dio e diciamo la totale eliminazione di tutto ciò che non converge alla loro visione atea e materialistica della vita allora dunque vi dicevo aprendo anche lo spunto per lanciare questo libro Progetti su Anticristo che come vi ho detto l'ho mai letto in radio perché non ho avuto tempo c'erano altri libri che magari in quel momento lì interessavano di più ma io me lo sono riletto mi sono quasi rammaricato di non averlo letto perché il fatto di non averlo letto poi vuol dire non avere più le repliche da dare e non è escluso che prima o poi lo faccia però quello che mi interessa adesso cari amici è che voi conosciate meglio questo grande autore che è un profeta vero e proprio che ha scritto questo romanzo nel 1907 e che è di un'attualità sorprendente qui non possiamo che ringraziare il Papa che l'ha di nuovo evocato a Budapest dunque il mio compito questa volta è proprio di leggere il libro che ho e di commentarlo non so se leggerò tutto questo capitolo che è molto vasto è il capitolo 11 appunto del mio libro Profezie sull'Anticristo leggiamo e commentiamo carissimi perché ci aiuterà moltissimo a capire tante cose soprattutto come dovevo prepararci al tempo dei segreti Soloviev e Benson scrivo hanno scritto i loro due capolavori sull'Anticristo all'inizio del secolo XXI cioè all'inizio del 1900 lanciando alla cristianità un messaggio pressoché identico pur non conoscendosi affatto colpisce come i due polmoni del cristianesimo quello occidentale e quello orientale Soloviev era ortodosso e si è convertito al cattolicesimo Benson era anglicano se è convertito al cattolicesimo colpisce comunque come i due polmoni del cristianesimo quello occidentale e quello orientale respirassero insieme pervenendo alle medesime intuizioni profetiche i loro presentimenti sull'attacco alla fede cristiana da parte delle forze equalizzate del male ci lasciano stupiti perché è chiaro che da da decenni è in atto un processo pubblico globale al cristianesimo e ne è stata stabilita l'eliminazione da parte delle classi dirigenti è trascorso mai un secolo ma le loro raffigurazioni del combattimento escatologico in atto si dispiegano giorno dopo giorno davanti ai nostri occhi essi a tutti gli effetti sono nostri contemporanei cioè Soloviev e Benson i due autori hanno sensibilità ed esperienze diverse tuttavia concordano nell'essenziale il loro merito indiscutibile è quello di aver suonato l'allarme e di aver scosso la chiesa alla vigilia del più devastante attacco che le porte dell'inferno abbiano mai scatenato io queste cose le ho scritte nel secolo precedente quasi era l'anno 2000 comunque eravamo ancora del 2000 il messaggio apocalittico che è fondamentale negli inseramenti di Gesù Cristo e degli apostoli è stato portato da questi due autori all'attenzione dell'intera cristianità le loro narrazioni insegnano al cristiano comune a leggere la storia e la luce della fede grazie al loro genio il romanzo e il racconto il romanzo di Benson e il racconto di Soloviev sono divenuti strumenti di profezia che illumina la navigazione della chiesa nello cielo agitato della storia mi ricordo che anche Cadella Biffi ha lanciato molto solo viovo l'ha fatto anche in Vaticano quando ha predicato gli esercizi se Soloviev è un ortodosso convertirsi al cattolicesimo Benson è un anglicano che dopo aver abbracciato il cattolicesimo è diventato sacerdote era anche un mistico Benson la visione alla chiesa cattolica di queste due anime sembra quasi un sigillo del cielo che ha voluto apporre a garanzia delle loro illuminazioni profetiche cioè il fatto che siano diventati cattolici è come un indicatore del cielo che non c'è altra chiesa nella sua pienezza che quella cattolica Robert Benson è nato nel 1871 in Inghilterra a Wellington College ed è morto a Sudford nel 1914 quindi relativamente giovane era figlio di un fresco anglicano l'arcivesco di Canterbury dopo un'intensa esperienza intellettuale nel corso della quale ebbe un'importanza decisiva la lettura e le opere del grande Newman anche egli anglicano convertirsi al cattolicesimo abbracciò il cattolicesimo e divenne sacerdote trascorso il periodo del suo sacerdozio che coincide con la maturità della sua non lunga vita dedicandosi alla predicazione e alla scrittura fra i temi più importanti della sua predicazione vi è quello dell'intima amicizia col Signore credo che ci sia anche qualche libro suo di mistica trabotto in italiano frutto del suo personale cammino interiore il personaggio chiave nella lotta contro la di Cristo è padre Percy Franklin divenuto poi l'ultimo papa che esprime la profonda esperienza mistica a cui Benson era pervenuto cioè dell'ultimo papa quello che vedrà la venuta di Cristo nella gloria mentre gli aerei dell'anticristo cercano di distruggere Nazareth dove questo ultimo papa è rifugiato in preghiera e lui in lui Benson riversa la sua intima esperienza mistica di Dio bellissimo quando leggerete il romanzo i padroni del mondo anche Benson come solo è presente l'anticristo come un uomo straordinario per qualità e capacità un astro luminoso in grado di incantare il mondo proprio perché riesce a soddisfare le aspettative dell'umanità ottiene un consenso universale non è escluso che invece dell'anticristo abbiamo qualche anticristica siamo attenti perché il diavolo le studia tutte ottiene dunque proprio perché riesce a soddisfare le aspettative dell'umanità ottiene un consenso universale egli è un messia del reno che ha successo laddove quello celeste avrebbe fallito ambedo gli autori si distaccano dalla tradizione che descrive l'anticristo a tinte fosche se anche Fulton Schindler lo descrive come un grande umanitario seducente luminoso un altro Cristo solo che una falsa luce se nel suo intimo è l'uomo iniquo il figlio della perdizione come lo bolla l'apostolo Paolo all'esterno gli appare come la più alta incarnazione dello spirito del mondo e in ultima istanza la più perfetta immagine del falsario infernale cioè è l'immagine perfetta di Satana falsa luce tuttavia mentre l'anticristo di Soloviev si oppone esplicitamente a Gesù Cristo negandone la resurrezione e quindi la divinità quello di Benson molto più realisticamente punte a distruggere la Chiesa al fine di cancellare il cristianesimo dalla faccia della terra e realizzare così la nuova religione dell'umanità certo che io già nel 1207 avevo gli artigli se guardate bene queste cose le ho scritte nel 1207 questo libro le sto commentando Benson sul mio libro l'affermazione di un anticristianesimo che vuole processare la fede cristiana gettare il fango su Gesù Cristo e demonizzare la Chiesa dimostra la validità e la convergenza delle intuizioni profetiche dei due autori cioè noi abbiamo visto in questo secolo diciamo la sinfonia malefica in progressione continua del processo del cristianesimo e che loro avevano anticipato perfettamente tuttavia Benson ha il merito di aver analizzato con straordinaria lucidità l'evoluzione del mondo moderno verso una religione umanitaria è quello che ho fatto anch'io però leggendo i messaggi della regina della pace la regina della pace dall'inizio fino ad oggi cari amici ci ha svelato il piano di Satana di portare il mondo moderno verso una religione umanitaria tant'è vero che la Madonna nel messaggio di febbraio cosa ha detto il mondo moderno l'uomo moderno non vuole Dio per questo va verso la perdizione ora ben solo in merito di aver analizzato a costordinaria lucidità l'evoluzione del mondo moderno verso una religione umanitaria volta a celebrare la divinità dell'uomo e la sua possibilità di procurarsi la salvezza e la felicità cioè è l'impulsura anticristica è la seduzione satanica che ha parlato alla Madonna nel messaggio di febbraio egli Benson è riuscito a cogliere con anticipo l'evoluzione della società che è sotto i nostri occhi e che vuole edificare se stessa rinegando le fondamenta morali e spirituali sulle quali le generazioni passate l'avevano costruita e nel medesimo tempo egli coglie le ragioni profonde della crisi della chiesa perché la chiesa perché la chiesa è in crisi perché vede perdere una parte consistente dei suoi fedeli sedotti dalle lusinghe del nuovo messianismo anche l'ortodossia cari amici è sedotta dalle lusinghe del nuovo messianismo che è semplicemente quella del potere politico del potere politico che assoggetta ai suoi fini la religione l'impostura religiosa irritisce attenzione nel romanzo di Benson questo è un dramma non solo i fedeli ma anche i sacerdoti e riduce la chiesa a un piccolo gregge raccolto intorno alla figura del papa qui c'è anche il grande profeta Paolo VI al riguardo si tratta dalla crisi della fede preannunciata da Gesù stesso con le parole che il grande pontevice Paolo Sento si ripeteva ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra tuttavia cari amici e questa è una cosa che io ho voluto mettere in evidenza che mi ha molto colpito in genere viene trascurata dai commentatori tuttavia vi ho un filone del pensiero di Benson stranamente ignorato dei vari commentatori che merita oggi la più attenta considerazione si tratta della risposta della chiesa all'attacco dell'impero delle tenebre cioè come la chiesa deve rispondere all'attacco dell'impero delle tenebre al cristianesimo dichiarato religione inutile sorpassata qui l'autore Benson divenne un maestro eccezionale nell'insegnare l'arte del combattimento spirituale infatti per quanto gli eserciti del male siano potenti non potranno mai riportare vittoria sulla chiesa fondata sulla roccia di Pietro questo lo dice Benson lo dice Benson citando appunto facendo riferimento a Matteo 16 tu sei Pietro su questa pietra edificerò la mia chiesa al pusillus gres cioè greggio piccolo e smarrito dei cristiani rimasti fedeli Benson non solo vuole infondere il coraggio della testimonianza ma indicare le armi con le quali concederà loro la vittoria e qui e sono come lo anticipo sono la la fede ovviamente sono la messa e il rosario è qui che il suo messaggio è particolarmente attuale e riguarda non solo la chiesa ma ognuno di noi personalmente vediamo allora adesso l'impostura anticristica cioè la religione umanitaria quella che ormai è riuscita a svuotare possiamo dire di cristianesimo di specialmente in Europa ma anche negli Stati Uniti ormai un po' ovunque portando via fedeli sacerdoti portando via diciamo così molte anime e sappiamo quali sono le parole della Madonna sulle armi che si perdono l'intuizione l'intuizione più geniale di Benson è senza dubbio quella di aver visto molto in anticipo la fermarsi in occidente di un nuovo paganesimo la Madonna cosa ha detto siete diventati pagani lui questo l'aveva visto più di un secolo prima dunque l'intuizione più geniale di Benson è senza dubbio quella di aver visto con molto anticipo la fermarsi in occidente di un nuovo paganesimo poi la differenza che c'è fra Benson e la realtà attuale è questa che Benson si limita all'occidente la realtà attuale come già vi ho detto è mondiale cioè che la Madonna dice che è l'uomo moderno che non vuole Dio e va verso la perdizione la Madonna dice che è l'umanità che ha scelto per la morte quindi diciamo così la religione umanitaria è veramente la religione dell'umanità compresa la Russia e compresa la Cina quindi cari amici l'intuizione più gennaio di Benson è senza dubbio quella di aver visto con molto anticipo la fermarsi in occidente di un nuovo paganesimo è chiaro che è nato in occidente la religione umanitaria è nata in occidente ma è diventata la religione mondiale il cui credo fondamentale è la proclamazione della divinità dell'uomo tutto ciò che gli uomini hanno attribuito a Dio e che la Chiesa ha attribuito a Gesù Cristo in realtà va attribuito all'umanità in quanto tale non è Cristo il salvatore del mondo il reventore del mondo non è Cristo la via la verità e la vita ma è l'anticristo il salvatore del mondo il reventore del mondo la via e la verità e la vita e nell'anticristo l'umanità proietta se stessa tutto ciò che gli uomini hanno attribuito a Dio e alla Chiesa che hanno attribuito tutto ciò che gli uomini hanno attribuito a Dio e che la Chiesa è attribuito a Gesù Cristo in realtà secondo la religione umanitaria secondo i nostri secondo i chierici della religione umanitaria che sono soprattutto i giornalisti i romanzieri quelli che fanno il cinema il teatro tutta la cultura cari amici loro processano i cristianessi lo lebonizzano e poi cosa fanno elevano al rango di divinità di poveri disgraziati di turno tutto ciò che gli uomini hanno attribuito a Dio e che la Chiesa ha attribuito a Gesù Cristo in realtà va attribuito all'umanità in quanto tale non è Dio dicono che ha creato l'uomo ma è l'uomo che ha creato Dio cioè il catechismo del diavolo insegnano pensando che fosse qualcuno superiore a lui e al di sopra di lui cioè l'uomo si è sbagliato tutte le religioni sono false l'uomo ha sbagliato a pensare che esiste Dio siamo noi Dio però ora dicono è giunto il loro parlano ma è Satana che parla ovviamente è l'angelo perdente che parla ora è giunto il tempo in cui gli uomini scoprono che non c'è nulla e nessuno dal quale essi dipendono essi sono i padroni del mondo e il loro destino sta completamente nelle loro mani accettati va notato che la religione umanitaria formulata dal pensiero europeo nel XIX secolo è denuta a religione di massa nel XX è la più perfetta e coerente incarnazione dallo spirito anticristico in quanto l'uomo si contrappone come dice San Paolo nella lettera di Tessalondicesi seconda lettera capitolo secondo versetto 4 perché l'uomo nella religione umanitaria si contrappone e si innalza sopra ogni essere che non viene detto Dio o è oggetto di culto fino a sedere nel tempio di Dio aditando se stesso come Dio dietro questa follia non è difficile diventare come Dio come dice la Genesi 3,6 il serpente simile a Eva e lei viene sedotta l'essenza dell'impostura religiosa anticristica come serve il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 675 è uno pseudo messianismo cioè un falso messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo messia venuto nella carne cioè al posto di Cristo l'uomo mette a se stesso quello che dice vicino di se stesso l'uomo lo vicino di se stesso quindi il processo eliminazione del cristianesimo distruzione della Chiesa e glorificazione dell'uomo solo che Dio c'è il demonio il quale ovviamente porta avanti i suoi piani il cui primo obiettivo è portare le anime all'inferno come ci dice la Madonna satanamente le anime e distruggere l'opera della creazione della redenzione insomma purtroppo farà anche lui avrà la sua parte come ha detto la Madonna Visca Benson scrive pagine memorabili sulla società anticristica dove grazie agli straordinari progressi della scienza e della tecnica l'uomo si illude di costruire il paradiso su questa terra nel fondo anche il nazismo e il comunismo sono nati diciamo sono forme di religione umanitaria cioè sono forme sono progetti anticristiani nella loro essenza nel fondo nel quale tuttavia cova il male pronta ad esplodere da un momento all'altro mentre l'ultimo nemico la morte ebbe lungi dall'essere sconfitto nonostante il sacramento dell'eutanasia Benson la società anticristica è contrassenata dall'eutanasia e Benson la chiama il sacramento dell'eutanasia anche il Papa ha fatto allusione che vi ricordate che abbiamo letto poco fa Benson è particolarmente acuto quando osserva che nella società anticristica non viene abolita la religione al contrario l'umanitarismo diviene una religione vera e propria con rite e forme di culto raffinate molti sacerdoti che hanno tratto la fede cattolica nel romanzo di Benson entreranno a fare da supporto la nuova religione dell'umanità in essa finiscono per conferire tutte le altre religioni compreso l'Islam tutti nella religione umanitaria difatti proprio quest'anno al forum di Davos erano presenti molti miliardari musulmani solo il cattolicesimo sia pure ridotto un pugno di segmaci resisterà saldo nel suo riferimento alla trascendenza sono soprattutto anzi sono esclusivamente i cattolici mariani perché come diceva Paolo VI non può essere cristiano chi non è mariano se pensiamo che il problema del mondo è un'opera scritta circa un secolo fa non possiamo che ammirare il genio precursore precorritore dell'autore noi infatti viviamo in un clima culturale in cui domina lo spirito del mondo cioè una visione della vita dove è esclusa radicalmente la dimensione soprannaturale mentre il cristianesimo ritenuto una religione barbara e sciocca è fatto appertamento oggetto di derisione di persecuzione lo vediamo noi sulla nostra pelle cari amici è in questo contesto dunque di fastidio per il cristianesimo e di religione umanitaria che si colloca la persona stessa dell'anticristo l'uomo eccezionale che realizzerà ciò che Cristo non è riuscito a fare per l'umanità cioè la pace la giustizia il progresso universale questo anticristo ha un nome e un cognome si chiama Giuliano Felsemburg non esita a affermare che se Cristo ha detto di portare la spada e non la pace egli al contrario porterà la pace e non la spada non solo ma se Cristo ha detto che avremmo avremmo avuto i poveri sempre con noi egli anticristo con la legge sui poveri grazie all'alleanza fra masonerie e comunisti riuscirà ad eliminare dalla faccia della terra la povertà naturalmente eliminerà tutto la povertà la malattia la disuguaglianza darà tutto il pane necessario purché tutti rinunciano alla libertà e tutti rinunciano a Dio chiaro? il programma di Felsemburg è degno di una campagna elettorale moderna e non è escluso che qualche cosa di simile sia da ascoltare anche i nostri giorni da qualche anticristo o da qualche aspirante anticristico o da qualche aspirante anticristica Cristo disse qui siamo a quello che ha le parole di Felsemburg Cristo disse non la pace ma la spada e le sue parole dice Felsemburg furono terribilmente vere ma io vi dico non la spada ma la pace e così possono finalmente rispondere tutti coloro che hanno rinunziato alle pretesi di Cristo o non le hanno mai volute accettare i principi dell'amore e della solidarietà timidamente pronunciati nell'ultimo secolo in occidente sono stati raccolti dall'oriente dice Felsemburg cioè della rivoluzione russa in gran parte che è quella cinese che hanno ovviamente poi sono stati raccolti dall'oriente non si farà più appello alle armi ma alla giustizia non dovrò più rivolgersi a un Dio che resta nascosto ma all'uomo perché egli ha preso la propria divinità è consapevole è morto in parole brevi il soprannaturale o meglio noi sappiamo dice che non ha mai esistito ora dice Felsemburg dovevo mettere in pratica la buona lezione e lasciar perdere ogni tergiversazione affidando ogni pensiero ogni parola e ogni opera al tribunale dell'amore e della giustizia insomma nessuno ha mai parlato come l'anticristo questa è diciamo la religione umanitaria che è stata preparata lo conosciamo tutti senza Dio si vive meglio questo sarà il programma elettorale dell'anticristo insomma che avrà il consenso universale con la nuova società che con la nuova società che creiamo ci sarà più guerre più disuguaglianze più dolore e forse neanche più la morte elimineremo tutto salveremo noi stessi però bisogna rinunciare a Dio è la propria libertà e per quello che Madonna ha detto solennemente nel 2021 nel mese 25 giugno quindi nel giorno dell'anniversario Dio è amore ed è libertà quindi il successo è assicurato e fatti il fascino che emana dalla persona dell'anticristo è irresistibile l'intelligenza l'eloquenza la cultura e tutta la gamma delle qualità umane lo impongono all'ammirazione universale tanto più che nessuno poteva accusarlo di stampa falsa di corruzione di intrighi politici ed economici che hanno macchiato la vita di tutti gli altri statisti di tutti i tempi lo presenteranno come se fosse immacolato o immacolata io non escludo che l'anticristo sia una donna e perché no quindi mi diverto ma non tanto sono serio perché il diavolo le studia tutte quando nel tempo di San Paolo a Londra sapete cos'è il tempo di San Paolo a Londra il 33enne Giuliano Ferselvug è incoronato salvatore del mondo molti in silenzio piangevano altri muovevano le labbra ma non ne usciva parola alcuna tutti i volti erano fissi a quella semplice figura come se in lui fosse riposta la speranza di ogni cuore con questi giochetti ma smedio li stanno facendo già eh ti propongono loro i leader da adorare e fanno le prove i mass media presenti all'incoronazione di Ferselvug non hanno dubbi pensiamo che allo stesso modo venti secoli or sono gli occhi di tanti si volsero su quell'uomo rimasto famoso nella storia col nome di Gesù di Nazareth solo che questa volta cari amici ovviamente l'anticristo è superiore a Gesù di Nazareth perché Gesù di Nazareth divide il mondo l'anticristo lo unifica quando Ben Sonno all'inizio del secolo scrisse il suo romanzo il padrone del mondo non si erano ancora manifestati i messianismi terreni quali furono il comunismo il nazismo con moltitudini di battezzati apostati dalla fede che inneggiavano i salvatori terreni sappiamo i salvatori terreni da Hitler Stalin Alieni tutta la compagnia tuttavia il nuovo totalitarismo contemporaneo come lo chiama San Giovanni Palos II che si è affermato dopo la caduta di quelle ideologie del male realizza il programma anticristico in un modo ancora più radicale la eliminazione di ogni dimensione soprannaturale l'attacco non solo alla Chiesa ma al cristianismo in quanto tale non risparmiando la stessa pressione di Gesù Cristo sono tratti emergenti delle società anche delle società occidentali ciò che Ben Sonno ha ben visto è il fatto che l'anticristo pacifista il cultore della giustizia e dell'amore universale non leggerà a mettere in alto un progetto di sterminio dei cristiani arrivando fino a distruggere Roma sarà nel momento in cui gli aerei dell'anticristo cercheranno di lanciare le loro bombe contro il gruppetto su pesti dei cristiani raccolti sulle colline di Nazareth intorno all'ultimo Papa che si manifesterà sulle lumi del cielo il vero padrone del mondo cioè come sappiamo Benson colloca diciamo la manifestazione dell'anticristo alla fine del mondo è lecito far questo in fondo anche Paolo lo fa però credo che bisogna distinguere bene fra l'anticristo e i suoi rappresentanti interi l'anticristo è il diavolo quindi alla fine del mondo c'è lui stesso in persona direttamente che guida l'ultima battaglia quella dell'armageddon nella quale sarà distrutto e verrà Cristo nella gloria poi invece sono i rappresentanti dell'anticristo sono i due besti dell'apocalisse che sono adesso i due volti dell'anticristo il potere assoluto e la falsa religione quella umanitaria quindi diciamo che pronunciare oggi l'impulsione anticristica è corretto ma è quella che si incarna nelle due bestie però dietro c'è Satana le due bestie sono l'incarnazione di Satana come il verbo si è incarnato anche Satana si incarna nelle due bestie adesso vediamo non riuscirò a leggere tutto questo capitolo cari amici però vale la pena vedere come la fede quindi è scritta la crisi della fede e il diragato dell'apostasia che noi abbiamo vissuto la descrizione della società anticristica che ci offre la profezia di Benson è centrata sull'intuizione di fondo che l'uomo contemporaneo intende liberarsi del cristianesimo perché ormai ha preso coscienza della propria capacità di salvare se stesso questo radicale cambiamento interiore si è reso possibile a causa del dissolvimento della fede nel soprannaturale qui Benson dimostra di aver compreso con molto anticipo il vero dramma dell'occidente in particolare quello della cultura di area europea si tratta di una vera e propria catastrofe spirituale che si consuma con la perdita della fede e in questo senso la società occidentale ha ceduto nel corso degli ultimi tre secoli alla seduzione del serpente antico descritta dalla Genesi a questo riguardo Benson punta anche il dito sulla penetrazione del modernismo nella Chiesa contro il quale ebbe a lottare con grande coraggio il Papa Sandio X allora il fenomeno era ancora diciamo così all'origine ma poi come sappiamo è esploso possiamo dire in questi ultimi decenni e ha colpito non soltanto i laici ma anche il clero è interessante non ce ne so parlare diciamo come già ebbe a denunciare San Biodecimo vescovi allora e i sacerdoti modernisti ma poi le correnti moderniste hanno fatto strage anche all'interno della Chiesa non c'è dubbio Benson però anticipato tutto in questa pagina famosa cari amici quando ha descritto nel suo romanzo il tradimento di una parte del clero soprattutto attraverso la vita personale di un sacerdote padre Francis lui descrive la crisi del clero Benson con un personaggio del suo romanzo padre Francis che diventa sacerdote della religione umanitaria e rinnega Cristo era un suo compagno di seminario quindi secondo Benson dunque vediamo è proprio sul tradimento di una parte del clero che Benson si sofferma a lungo nel suo romanzo soprattutto attraverso la vita personale di un sacerdote padre Francis che abbandonata la fede cattolica si dedicherà corpo ed anima al nuovo culto dell'umanità nella prospettiva dell'autore non si tratta tanto di una divisione fra un clero progressista e un clero più conservatore la spaccatura drammatica per Benson e fra i sacerdoti che hanno conservato la fede e quelli che l'hanno persa conformandosi alla mentalità di questo mondo ne facendo una caratteristica della pace chiaramente nei messaggi Miriana cioè dei sacerdoti che nascondono la fede e che l'hanno persa figlio mio dice la Madonna rivolgendosi a Gesù il veleno del progressismo e del modernismo ha come conseguenza inevitabile la presa della fede soprattutto in quello che è il suo cuore cioè la divinità di Gesù se Gesù di Nazareth non è il figlio di Dio e il salvatore del mondo le porte sono aperte perché si affermi nella religione dell'uomo e del suo profeta l'anticristo con le sue promesse di salvezza eterna egli potrà dire di se stesso ecco io sono sempre con voi ora e alla fine di secoli il paraceto è deciso in mezzo a noi io sono la porta dice l'anticristo sono la via la verità la vita l'origine e l'esito della vita il mio nome è l'ammirabile il principe della pace il padre dell'eternità io sono il desiderio delle nazioni il più bello fra i figli degli uomini il mio regno non avrà fine amici questa è la grande seduzione che comunque in atto non saprei dire se vedremo la figura dell'anticristo nelle sue duplice facce quella politica e quella della falsa religione non so ma nella società tutto questo è già reale cari amici non è che parliamo di qualcosa che noi non vediamo se il papa l'ha citato questo profeta del 1907 è perché lui ha visto che si sta realizzando esattamente quello che ha descritto appunto parlavamo della crisi di questo sacerdote che rappresenta la crisi di tanti sacerdoti padre Francis compagno di seminario di Persi che è diciamo protagonista positivo del romanzo un sacerdote che poi addimiterà papa agli ultimi scoccioli ebbene nel colloquio fra i due quando appunto padre Persi cerca di recuperare padre Francis vede che questo suo amico di seminario che ha perso la fede è incapace di uscire fuori dalla tenebre in cui è precipitato e dice tutto è finito non credo più a nulla è un anno che non credo più a nulla Persi suo compagno il sacerdote non sapeva che rispondere capiva la mala lotta che doveva spezzargli il cuore e lo commiserava non era che una povera creatura quel sacerdote travolta nel turbine vertiginoso della nuova umanità il mondo contemporaneo esercitava un fascino quasi irresistibile la seduzione satanica nella quale cadde Eva nei secoli nei quali la fede è forte si riesce a superare ogni prova anche quando nessuno capisce ma nel periodo in cui domina la razionale indagine critica solo gli uomini dal cuore puro e umile si possono esporre per lungo tempo alla lotta a meno che non siano la neve protette da un medacco di ignoranza cioè quando la seduzione della legione umanitaria e dei progetti diciamo così del grande reset sono così seducenti e così falsi e comunque sono una falsa luce che abbaglia cari amici quasi nessuno riesce a resistere a meno che non abbiano un cuore pure e umile perché la lunga lotta poi rischia di travolgerli oppure diciamo così si tratti di uomini gli ignoranti di Dio che poi sono i sapienti che invece resistono tenacemente alla fede senza mai cedere Persi dice padre Persi dice allora questo suo compagno che non è più capace di uscire dall'abisso nel quale è precipitato sono terribilmente addolorato al pensiero che rinneghi ciò che invece è vero cioè la religione cattolica l'altro cioè il compagno smarrito lo guardò negli occhi e replicò io so che non è vero cioè che non è vero il cristianesimo potrà essere una cosa bella potrei anche desiderare di credere ancora dal momento che penso che la felicità se ne sia andata con la fede ma ma è come dico io io mi ricordo una volta avevo perso tempo una persona a descrivere la bellezza del cristianesimo lei mi rispose sì sì è una bella proiezione psicologica per autoconsolarsi ma non c'è niente di vero si è è l'accecamento che ha portato l'indurimento del cuore siamo è oltre il limite dell'abisso del male nel quale uno sta precipitando quindi cari amici questo è il panorama di fronte al quale ci mette Robert Benson nella descrizione della crisi di fede che è sicuramente il tema fondamentale dei decisi segreti e questo è una cosa di cui mi sono sempre più convinto ed è per questo che insisto molto su questo cioè che devo prepararci con la fermezza della fede attraverso la preghiera la purezza della vita la conversione continua l'esperienza intima con Dio con Gesù Cristo con la Madonna elevare le nostre animi all'esperienza mistica diversamente non ce la faremo a superarla mi dispiace cari amici che vi ho letto soltanto poche pagine di quelle che avevo preparato per l'Ergemi però vi ho detto tutte le cose fondamentali come andrà a finire cari amici andrà a finire che quando ormai l'anticristo è diventato partito del mondo l'ultimo papa che si chiama Silvestro cercherà di fare di Roma una fortezza di santità e fondereà un ordine religioso che si chiama l'ordine di Cristo crocifisso tutta la città di Roma diventa come un monastero dove appunto la gente prega la gente si mortifica la gente fa penitenza e è strano perché questa profezia di Robert Benson sulla città di Roma che resiste impavida grazie al papa alla seduzione anticristica è tutto al contrario di quella della saletta che dice che Roma diventerà la sede dell'anticristo e che ovviamente sinceramente non mi sembra non mi sembra una cosa non so come dire perché nella profezia di Milania c'è di tutto quindi non so cosa dire ma sinceramente preferisco questa profezia di Robert Benson che dice che che la capitale del cattolicesimo sarà il baluardo contro l'anticristo il quale non riuscirà a debellarla non riuscirà a sedurla e quindi invierà i suoi aerei per distruggerla e lo farà Roma viene distrutta dalle armate volanti dell'anticristo il quale ovviamente lui è principe della pace perché i cattolici bisogna farli fuori tutti ovviamente dopodiché però due cardinali sono fuori sede e si salvano uno è proprio padre Persi che raccordi alcuni fedeli si rifugierà a Nazareth lì in una casa con un piccolo gruppo di fedeli in adorazione continua attenderà che le fortezze i volanti dell'anticristo planino su Nazareth per distruggerla ma mentre si avvicinano a Nazareth in quel momento i cieli si aprono arriva Cristo nella gloria il mondo la Babilonia la grande cioè il mondo nuovo senza Dio dell'anticristo crolla e arriverà il vero padrone del mondo che è Gesù Cristo questa è la fine del romanzo di Robert Benson con una vittoria con una grande vittoria e ovviamente per quelli che lo desiderano sono anche disponibili vediamo un po' questa diciamo così presentazione che vi ho fatto del bestempo di Benson lo dovevo per questa bellissima citazione del Santo Padre so che vi farà molto so che è bella vi fa molto piacere però alla fine alla fine il vero insegnamento che ci arriva e che io vi voglio dare è questo cioè che il vero dramma dell'uomo moderno è la perdita dalla fede e quindi consiglia a se stesso l'anima e anche il mondo al principio di questo mondo che è il demonio il quale pensa ormai di avere la vittoria ma non l'avrà la prospettiva ovviamente della regina della pace è diversa cioè questa è la battaglia contro le due bestie dell'Apocalisse i due volti dell'Anticristo che la Madonna vincerà e ci sarà un tempo di pace questa è la prospettiva cari amici però noi abbiamo un grande insegnamento da prendere che è questo cioè che la Madonna è qui per preparare la Chiesa e comunque quello che c'è di più vero più santo di più bello nella Chiesa che sono proprio le anime diciamo così mariane sempre parlando della Chiesa sempre parlando i suoi apostoli questa grande battaglia della fede e toccherà a noi cari amici non perderla toccherà a noi testimoniarla toccherà a noi essere cari che testimoniano la speranza perché cari amici quello che ci attende sono eventi inimmaginabili nei quali con i quali la Madonna cambierà il mondo ma è necessaria una testimonianza eroica della nostra fede e questo è anche il grande insegnamento che fa Robert Benson che noi dobbiamo assimilare e che dobbiamo diciamo così farne un programma di questi tempi che ancora ci separano dal tempo dei segreti